Passa la riforma costituzionale, voluta dai 5 stelle, il risultato definitivo del referendum assegna una maggioranza schiacciante. Ai sì, il 69,6% contro uno sparuto drappello di no, 30,4%. Pareggio secco nelle regionali, 3 a 3. Toscana, Campania e Puglia vanno al centro-sinistra con le affermazioni di Gianni, De Luca ed Emiliano. Veneto Marche Liguri alla destra, ma il grande vincitore della tornata elettorale sembra essere il PD del segretario Zingaretti. I candidati PD in Toscana e Puglia, ad esempio, hanno sottratto un considerevole numero di voti ai 5 stelle. Eppure anche il primo ministro Conte sembra di riflesso confortato da questa verifica parziale, soprattutto per il risultato referendario e perché in fondo può monetizzare sull'affermazione del centro-sinistra, asse portante del governo giallorosso di cui espressione ibrida, soprattutto dopo la gestione dell'emergenza Covid. Il leader leghista e sovranista Salvini rivendica la leadership in 15 regioni su 20, ma lascia sul terreno i suoi candidati diretti. Nelle Marche in Liguria vincono infatti il meloniano Acquaroli e il forzista Toti, mentre in Veneto si conferma il governatore leghista autonomista Zaia.